Va bene, allora, mi sentite no? No, sì, sì, sì. Ok, ok. Allora, dunque, buonasera, sono Edoardo, segretario dell'FGS di Cesena, poi penso che tutti voi mi conosciate, nonché il fratello di Enrico. E benvenuti in questa che è la serata che dà il via a 4-5 lezioni sulla storia del PSI, 4 lezioni che parlano di 4... E alla fine faremo anche una serata dove faremo, diciamo, una parte di ritrattistica sui protagonisti di questo socialismo, il loro pensiero e anche le loro azioni. Tutto è nato semplicemente all'interno del nostro circolo di Cesena, cito per esempio il compagno Tesei che spingeva, ma comunque più o meno avevamo tutti questa forma mentis, Cioè di mettersi a studiare sul socialismo, cioè su conoscere la parte storica, conoscerla meglio, perché comunque già a scuola più o meno abbiamo, ci sono state delle idee. E quindi ho contattato Pietro, Pietro Caruso, che più o meno conosciamo tutti, ma se non lo conoscete è giornalista e saggista, ma più che altro è un caro amico, è stato il presidente della FGS, ma ha anche vissuto all'interno del PSI storico, l'ho contattato e si è prestato per fare queste lezioni ben organizzate sulla storia del PSI. Quindi io direi di dare la parola a Pietro e possiamo incominciare. Prima di questo vi ricordo, come solito fare qui su Discord, di durante la lezione tenere il microfono a spento. Se ci sono delle eventuali domande potete fare una prenotazione, perché comunque finita la lezione faremo anche una parte di risposta, dubbi e problemi, insomma, e niente. Do la parola a Pietro. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Bene, allora mi sono messo la cuffia perché così spero che ci sia, ma riesco a percepirvi meglio, infatti vi sento un po' meglio. Scusate, un attimo. Allora, direi di iniziare subito con questa lezione che è una conversazione, non vuole avere niente di accademico, ma tuttavia stabilire un criterio di un certo rigore, anche perché se c'è una cosa che manca oggi alla politica, nonostante le molte forme di informazione che ci danno la possibilità ovviamente di gestire dei momenti di incontro anche come questi, è un retroterra formativo, perché sembra quasi che la politica odierna non abbia bisogno di alcuni fondamentali teorici, non debba rispettare nessuna coordinata storico-politica, si muova un po' sull'ospirito individuale. Cioè ciascuno rischia addirittura di arrivare alla politica con enormi ambizioni, grandi obiettivi personali senza un retroterra che gli faccia capire in qualche modo in che mondo si è collocato e soprattutto se quel mondo corrisponde ai suoi ideali. Se l'idea che si è fatta del socialismo corrisponde in realtà alla realtà delle cose o è soltanto un suo metassogno. Cioè è un'impostazione che tra l'altro nel mondo giovanile è sempre stata molto presente, perché come potete immaginare tutti i movimenti spontanei a caratterizzazione giovanile, nelle lotte politiche del passato, ma anche nell'Ottocento, avevano una vaga percezione dei contenuti di lotta sui quali ci si cimentava, ma erano formati innanzitutto da antefatti che non avevano fondamentali storico-politici, ci vale a dire amicizia personale, il senso di lealtà cameratesco, motivazioni legate al cambiamento del proprio status sociale, culturale, religioso, ma non una fondamentale conoscenza dei postulati ideologici, culturali, di riferimento, storici. In realtà, se noi voi facciamo i conti come nasce la storia del movimento socialista tra il 1871 e il 1892, quando formalmente si dà la data della nascita in Sala Sivori dei Carabinieri Genovesi a Genova del Partito dei Lavoratori Italiani, beh, in effetti in quei vent'anni c'è parecchia confusione. C'è parecchia confusione perché, come potete immaginare, l'Italia postunitaria è un crogiolo dopo l'avvento del Regno d'Italia nel 1861, è un crogiolo di fermenti in cui bollono esperienze militari e sociali garibaldine massiniane. C'è stata però una netta battaglia sulla questione istituzionale. Nonostante correnti minoritarie, repubblicane, massiniane e garibaldine, l'Italia del Regno non è ovviamente un'Italia repubblicana. È un'Italia dove gli scontenti dall'esito del risorgimento si affollano perché sono rimaste irrisolte soprattutto la questione meridionale e la questione operaia. è proprio dall'innervature di una questione istituzionale come quella repubblicana da un lato e la questione operaia dall'altro che nascono due fermenti che confluiranno poi da percorsi diversi, paralleli, nella nascita del partito dei lavoratori italiani nel 1892. La prima riguarda anche la Romagna perché l'esperienza di un uomo e un gruppo di suoi sodali come Andrea Costa, imolese, che fa parte di quel gruppo fuoriuscito dalle esperienze anarchiche e bacuniste nel 1870, fa sì che egli rompa, dieci anni dopo, l'esperienza che fondeva insieme fermenti anarchici, repubblicani, massiniani, in una scelta dichiaratamente socialista. Questa scelta è quella che va a formare con la lettera agli amici di Romagna, ai compagni di Romagna nel 1881, quindi dieci anni dopo, quella fase del crogiolo dove era nata da un lato l'Italia laica dopo la breccia di Porta Pia e a livello internazionale, il primo modello di internazionale dei lavoratori, la cosiddetta prima internazionale, beh Costa rompe, rompe con gli anarchici da cui proveniva su un'idea molto precisa. Occorre un programma minimo, anche allora, che in qualche modo consenta sia pure con grande cautela, grande attenzione, la fine di quella dimensione anarchico non partecipativa alle elezioni, quel neutralismo dalle elezioni così intransigente che coincideva sia col movimento anarchico sia con una componente cosiddetta del massinianesimo intransigente che, siccome non c'era la Repubblica, non si poteva sedere in Parlamento. Costa non fa l'operazione di entrismo in Parlamento, sulla base di un calcolo personale, no. Non dimenticate che allora fare il parlamentare del Regno costituiva un privilegio onoris causa, non c'erano le condizioni economiche, i gruppi elettorali che ti mandavano in Parlamento tra il 1870 e il 1900 dovevano pagare il candidato, dovevano sostenerlo nei comitati, insomma non era un gioco così semplice. Il povero avvocato Costa però riesce a farsi votare, soprattutto nel territorio romagnolo, da ex compagni anarchici che si rendono conto che è un'occasione storica, quella di una candidatura nel Parlamento reggio di un uomo che dichiara comunque un'intransigenza rivoluzionaria e sia naturalmente le componenti democratiche massiniane più ragionevoli che vedono comunque in Costa un socialista pieno di fervore e di formazione umanistico-rivoluzionaria, un soggetto di un certo tipo. Dunque abbiamo detto del partito socialista rivoluzionario di Romagna che è un pezzo di quello che poi diventerà il partito dei lavoratori italiani. Ce n'è un altro che è esistito, è nato anche questo, paradossalmente nato da un'ascissione a sinistra del movimento massiniano. Allora il movimento massiniano italiano non aveva ancora un partito repubblicano perché il partito repubblicano italiano in un processo parallelo a quello che caratterizza il movimento socialista quando diventa partito dei lavoratori si realizzerà solo nel 1895, cioè tre anni dopo l'incontro in Sala Sivori. Diciamo c'è una galassia anche del movimento repubblicano ma non si è ancora condensato in un partito. I socialisti bruciano sul tempo la progettazione di un partito politico organico. È però vero che nel movimento massiniano ci sono già le consociazioni repubblicane che sono territoriali, coincidono bene o male con i terreni provinciali. In Romagna sono più ampli che in altre e corrispondono a un territorio distrettuale, quindi la consociazione romagnola di cui fanno parte i fornivesi, i cesenati, i ravennali. I socialisti però sono tutti concentrati in Romagna nel partito socialista rivoluzionario mentre a Milano e nella Lombardia e nella pianura padana è molto attivo un partito di tradizione democratica che poi ha guardato con grande simpatia al marxismo nascente. Ed è il partito operario italiano. Il partito operario italiano ha in Costantino Lazzari ed altri esponenti, io semplifico ovviamente sempre i ragionamenti per fare queste cronistorie il più possibile accettabili e non troppo pallose, anche se un po' lo saranno. Il partito operario italiano è insediato nella cinta urbana di Milano, si è formato anch'esso sostanzialmente alla fine degli anni 70 del XIX secolo e ha un obiettivo, dare potere agli italiani. Dare potere a chi lavora nelle fabbriche, chi fa il garzone dentro le aziende tessidi, chi in qualche modo lavora con il lavoro delle proprie mani, sotto padrone, mi sentite sempre spero. Mi sentite no? Perché il partito operario italiano insediato nel mondo industriale non ha relazioni però col mondo contadino. Sul mondo contadino mi fermerò un attimo per dire come arriva al socialismo. C'è un'altra componente più intellettuale a Milano ed è una componente che poi quando nasce concretamente il partito avrà fra il 1892-93 fino almeno al 1904 per un decennio un ruolo di guida importantissimo. La lega socialista milanese ha nell'avvocato Filippo Turati una figura di grande importanza. Turati si è abbeverato al marxismo ma partendo da una tradizione democratica mazziniana anche lui. Il suo maestro è Arcangelo Ghisleri che a sua volta possiamo definirlo un mazziniano di sinistra. Un mazziniano che propugna un'idea del socialismo mazziniano naturalmente fortemente anticlericale e repubblicano ma non abbraccia le idee di marxismo. Cosa fa invece Turati? Turati studia Marx. Non diventerà mai un marxista radicale ma di Marx Turati come il suo gruppo che poi diventerà il nucleo teorico più importante del riformismo italiano. Gli interessa l'umanismo di Marx. Non gli interessa tanto la costruzione di quello che nel 1848 rappresenta la nascita del partito comunista ed è la sua forma organizzativa ed è l'obbligo che Marx con Engels fanno affinché gli associati escano dalle tradizioni laboriste socialdemocratiche per confluire nel partito comunista. No, egli vuole che è l'analisi sociale del marxismo e la critica sociale di Marx che bisogna adottare, poiché l'analisi degli oppressi, l'analisi dei bambini lavoratori sfruttati come i cooperatori di Rockdale nel 1844 avevano fatto, come nei libri di Charles Dickens erano stati evocati, come erano stati ripresi nei dibattiti della prima internazionale, sono per Turati un elemento importante. Egli però è contro l'anarchismo che non vuole partecipare alle elezioni, egli guarda sicuramente con simpatia anche al movimento di Andrea Costa, diventa il compagno della compagna di Andrea Costa che è la famosa Anna Kulishova che è anche una donna di ferro, una giovane russa di grande intelligenza che veniva dai movimenti rivoluzionari ottocenteschi di fine ottocento contro lo zarismo, di cui se volete una chiave letteraria in qualche modo, nei moti decabristi e nei libri di Dostoievski, ne vedete in azione alcuni fino all'estremismo terroristico addirittura, ma al di là di questa citazione questa è la terza componente importante. È vero, ci sono anche le leghe contadine che fanno sì che nel mondo operaio, a fianco del mondo operaio ci siano le leghe debbraccianti nella Valle Pasqua. Questo crogiolo di movimenti si deve incontrare, non può stare per dieci anni dialogando più o meno e quindi il partito operario italiano di Costantino Lazzari, il partito socialista rivoluzionario di Romagna di Andrea Costa, la lega socialista milanese, alcune leghe bracciantili si incontrano in pare 120-180, ora non ricordo, non voglio neanche fare una descrizione che non abbia anche un po' un carattere più scanzonato rispetto a un rigore certosino di tipo metodologico, però si incontrano, sottoscrivono cose importanti per capire come nasce un partito. Qui sono nati i partiti, faccio un salto nell'attualità, che non si capisce un tubo come sono nati, si sa pochissimo, sono narrazioni precostituite. Il bello nella formazione del partito socialista italiano, ma anche del partito repubblicano, è che c'è l'elenco dei sottoscrittori nell'ingresso della sala, si sa come è nato il partito socialista e che soldi hanno messo i delegati, non è che c'è un finanziamento da un mondo sommerso come invece vedremo nella nascita dei partiti successivamente. Il partito socialista naturalmente nasce come partito dei lavoratori italiani per definire il suo nome ha bisogno di un altro congresso, perché non dobbiamo dimenticare che ovviamente la corrente più importante che il partito socialista assume quando nel 1895 si chiama appunto partito socialista italiano e non più solo, prima partito dei lavoratori, poi nel 1893 partito socialista dei lavoratori italiani, beh nel 1895, quando tra l'altro nasce anche il P.R. in forma ufficiale, si chiama partito socialista italiano e il partito socialista italiano in nel 1895 viene guidato dalla corrente operaista, ovviamente, il partito socialista italiano nel 1895 viene anche perché numericamente è la più importante e questa corrente operaista nel 1895 assume quella potenza fino al 1900, cioè si prende 5-6 anni di gestione del partito. A quel punto però la crisi del 1898 che mette in moto la repressione feroce del governo monarchico del generale Bava Beccaris, le cannonate contro la folla che chiede pane, gli arresti che c'erano stati anche di la Culisciova, Turati, Don Davide Albertario, i protagonisti dei socialisti, dei radicali di sinistra, ovviamente delle correnti progressiste del tempo, rafforza, forse diciamo la verità, anche l'imprigionamento di Turati, la repressione contro di lui, rafforzano quello che Turati con la corrente riformista sarà la sua vittoria sostanzialmente alla fine del 1900 con la presentazione del programma minimo. Il programma minimo è un vero e proprio programma politico, di rivendicazioni, allargamento del suffragio universale, la Culisciova ci mette anche il voto alle donne, anche se sa benissimo che la maggioranza dei maschi ancora non è pronta per quella presa di posizione, inclusi compagni che pure la sostengono. Ma questa guida di un partito di questo tipo ha anche un'importanza di mobilitazione, perché ormai Lavanti è nato nel 1896, Lavanti è tra l'altro il frutto di un quotidiano nazionale che si stampa a Roma, ma è stato preceduto da dei periodici con nomi illustri, su questo mi fermo solo perché potrei farvi una lezione sui periodici socialisti e risorgimentali, perché sono veramente decine e decine con delle storie straordinarie, ma sono tutte precedenti a questa fase. Pensate soltanto che nel nostro territorio a Rimini, io quando ero giovane come voi avevamo rispolverato la federazione socialista, allora Germinal, che era il periodico, il giornale settimanale che veniva fatta dai socialisti riminesi. Germinal, voi sapete, chi ha studiato un po' di letteratura, era un romanzo di Zola, quindi raccontava la storia dei poverissimi francesi. Torniamo a noi, che cosa succede? Beh, succede che il governo Giolitti, quando vede che al potere del PSI non c'è più la corrente massimalista operaista, guarda Turati con grande interesse, guarda Turati con grande interesse anche perché la politica filo tedesca che l'Italia allora aveva, non dimenticate che dal 1866 in verità il Regno d'Italia, che prima era stato fortemente filo francese, aveva dirottato le sue politiche estere verso la Prussia, e la Prussia era l'elemento unificante della Germania, e il cancelliere Bismarck in Germania, nel periodo di origine della socialdemocrazia, nel terzo decennio del XIX secolo, quindi fra il 1880 e il 1890, aveva fortemente corteggiato la socialdemocrazia tedesca, per portarli a un passo dall'intesa governativa. Nel suo piccolo Giolitti, liberale Giolitti, anche spregiudicato, ma sicuramente un liberale capace anche di progresso, aveva corteggiato la componente riformista dei socialisti, che però doveva fare i conti non solo con un maloperaista intransigente, ma doveva fare i conti anche con un'opzione repubblicana all'interno di alcuni suoi militanti, provenienti da quelle esperienze mazziniane e garibaldine, che non volevano essere assorbiti nelle alleanze di un Parlamento che aveva come caratteristica il dominio di un re che in quel caso era già re Umberto, che naturalmente sarebbe stato ucciso proprio nel 1900 dall'anarchico Gaetano Bresci. Insomma facevano fatica a accettare quel dialogo che naturalmente gli tendevano i liberali alla Giolitti e alla Zanardelli. E però questo naturalmente fa sì che in qualche modo ci sia una reazione istintiva contro questa intesa e per un momento i massimalisti sembrano ritornare a guidare il partito. In che cosa si rafforzano i riformisti socialisti? Hanno un'alleanza inedita, incredibilmente a loro favorevole, quando sostanzialmente nel 1903-1904 nasce la prima Camera del Lavoro. Perché? Proprio perché le Camere del Lavoro vengono da esperienze di leghe operaie, hanno una visione molto concreta dell'economia e del rapporto con la politica. E, contrariamente a quanto si pensi, il sindacato quando nasce poi diventerà in alcune fasi rivoluzionari, ma il sindacato quando nasce all'inizio del Novecento è prettamente riformista. Segue quasi il motto fabiano, derivato dal laburismo britannico, del sostanzialmente «evolution but not revolution», non ha le caratteristiche di movimento massimalista. Questa alleanza con la Camera del Lavoro fa sì che Turati riesca a conquistare nuovamente la maggioranza dei partiti. E a quel punto naturalmente anche a rafforzare quella parte riformista che naturalmente vede anche altri uomini, che non sono solo quelli sostanzialmente raccontati dalla barba fluente dei riformisti antichi come Emanuele Modigliani o come Claudio Treves o come naturalmente il più anziano, ancora non molto anziano, comunque più maturo Filippo Turati. Ma ci sono anche altre figure che entrano nel partito. Sono figure che vengono diciamo da un demolaborismo, da un liberalismo di sinistra. In realtà non hanno mai manifestato delle caratteristiche di classe. Sono però personaggi che vedremo fra poco. Uno di questi è Ivanoe Bonomi, un altro è Lucio Bissolati. Sono personaggi che hanno invece a cuore l'accordo con la monarchia, con l'accordo e vogliamo dire l'ingresso anche nel governo. Che cosa succede a questo punto? Beh, dovete pensare che la crescita intanto organizzativa dei socialisti fra il 1904 e il 1908 è imponente. Poi c'è però una crisi ed è quella che è raccontata in qualche modo molto bene da Nenni quando fa il racconto della sua giovinezza. Perché come voi sapete Nenni, prima di essere socialista, forgiato nella difesa simbolica dell'Avanti nel 1924, è stato per 15 anni un repubblicano. È un repubblicano molto attivo, sia come esponente politico ma soprattutto come sindacalista repubblicano. Faccio questa citazione perché è collegata al fatto che c'è un altro giovane socialista irrequieto, che non è passato però dalla FGS, perché se fosse passato dalla FGS avrebbe avuto probabilmente meno indisciplina e meno solipsismo, cioè un individualismo morboso. Parliamo di Benito Mussolini, perché Benito Mussolini ovviamente è sempre uno dei capi del massimalismo. Quando riprende spazio il massimalismo? Il massimalismo riprende spazio quando la componente più riformista dei socialisti accetta, obtorto il collo, non è che propugna avere spiegato, però vede con favorevole simpatia la campagna di Libia. Insomma si aggancia a quell'interventismo colonialista ormai fuori tempo massimo del 1911 con l'impresa di Libia, in cui l'Italia fa la furba, strizzando anche l'occhio probabilmente sia la Francia che al Regno Unito per mettere in discussione e in difficoltà l'impero ottomano e va a occupare la Libia. Tra l'altro non la occuperà mai tutta e dovete sapere che uno dei motivi storici dell'instabilità della Libia è che il Fezzan, la parte del cono meridionale libico, è sempre stata, essendo anche una terra di deserto, in mano ai Tuareghe e al palleggiamento dei Tuareghe che una volta aiutano l'invasore di turno, poi gli fanno la guerra e viceversa. Insomma mai tutta la Libia è stata interamente conquistata, né prima né dopo né forse nemmeno domani. Questo scontro sulla guerra di Libia è imponente, i massimalisti, Mussolini incluso, sono assolutamente contrari, pensate alle contraddizioni di Mussolini, che poi sarà propugnatore dell'interventismo tre anni dopo, e i riformisti. I riformisti a questo punto vengono messi alle corde, turati, non è messo in discussione, ma personaggi come Bonomi e Bissolati, anche accusati in parte di avere una tradizione probabilmente effettiva massonica, vengono espulsi, vengono espulsi dal partito e loro cosa fanno, come nelle cronache politiche odierne? Non fanno bene le mani, con un gruppo di parlamentari vanno a formare una costola a destra del Partito Socialista italiano. Già allora, nel 1911, nel 12 fondano il Partito Socialista dei Riformisti italiani, un piccolissimo partito che elettoralmente non supererà mai il 3%, 3,5%, che però rimane incistato nelle politiche di quel pezzo dei socialisti che vogliono rimanere al governo sottoguida monarchico. A questo punto immediatamente c'è un altro scontro importante, perché nel 1912 a Reggio Emilia Mussolini stravince il congresso, massimalisti, addirittura con un'impostazione rivoluzionaria, naturalmente piena di retorica, però ovviamente riprende che tipo di socialismo rivoluzionario ha. Ecco, attenzione, Mussolini, anche lui ammiratore di Marx, non è un fervente marxista, tutt'altro. Gli è sempre piaciuto la componente socialista, utopista, rivoluzionaria, a cui si è saldato anche in qualche modo dei pezzi di sindacalisti rivoluzionari che avevano visto nell'intellettuale filosofo napoletano Antonio Labriola il loro punto di riferimento. Quindi Mussolini cavalca, cavalca la lotta contro il capitale, contro gli imperi, contro il massacro in Libia, eccetera. Vince, ma commette un errore, un passo falso. Perché nel momento in cui è il direttore dell'Avanti che ha vinto il congresso, congresso che però vede una figura emergente che fa il capo politico e dà un'altra esperienza maggiore rispetto a Mussolini, che è Giacinto Menotto Serrati, personaggio molto interessante perché era stato in esilio all'inizio del Novecento sia in Svizzera per ragioni politiche, sia negli Stati Uniti. Era un personaggio che aveva un curriculum politico drammatico e quindi testimoniava anche col carcere, le botte, gli esili, la sua fede politica. Era lui il segretario politico dell'operazione del congresso di Reggio Miglia del 1912. Ma il più brillante istrione dei socialisti era Mussolini, che era diventato direttore dell'Avanti. Il passo falso è molto semplice. Non ne passa neanche due anni che quello è già pronto a dire che adesso però alla vigilia della prima guerra mondiale bisogna appoggiare la Francia e bisogna andare a fare la guerra. Come? Sei stato il capo della minoranza turbolenta, massimalista, pacifista, antimilitarista, che tra l'altro mi permetto di ricordare che era la caratteristica della FGS. FGS di allora è sempre stata, tre caratteristiche, antimilitarista, anticlericale e anche in parte operaista. Quindi era sempre, come nel passato è stata, una componente alla sinistra del partito. Però Mussolini sbaglia, viene cacciato, tutti di me, tutti danno sempre, socialista Mussolini, socialista Mussolini. Quando Mussolini fa la marcia su Roma sono otto anni che è stato espulso dal partito socialista. Mussolini nel 2014 la sua esperienza con i socialisti è finita. E quindi è vero che ha una matrice socialista massimalista, ma Mussolini col corpo organico, con le tavole delle leggi del partito socialista italiano, ha avuto a che fare per un periodo molto marginale. Torniamo a noi, la prima guerra mondiale mantiene in vita la componente prevalentemente massimalista. È chiaro perché con la logica del né aderire né sabotare, solo quando nel 1917 c'è veramente la disfatta di Caporetto si modifica questa linea intransigente che caratterizzava il movimento cattolico e quello socialista contro la guerra e naturalmente anche i segretari giovanili della FGS che già erano al fronte di partito vanno addirittura a iscriversi ai distretti militari per andare a difendere la patria minacciata dall'avvento e dalla infiltrazione tedesco-austriaca lungo le linee del Piave in fila indiana, come ben sanno chi ha studiato la prima guerra mondiale, diventando sostanzialmente elementi destabilizzanti perché non dimentichiamo che ci mancò poco che a Jesolo e su Venezia fossero occupate dagli austriaci, non il Piave o il Friuli. Parliamo di Venezia. A un passo da Venezia la rotta di Caporetto arrivò. E allora questo cambiamento tenue non modifica sostanzialmente ma consente nell'immediato dopoguerra, contrariamente all'ipotesi che tutti facevano, visto che consideravano la linea socialista massimalista, la verità è che i socialisti incassano dalla fine della prima guerra mondiale un elemento molto semplice. 650 mila morti, 450 mila invalidi e un milione di feriti. E quindi è chiaro che il malcontento verso i governi liberali che hanno portato l'Italia nella prima guerra mondiale non incassano i risultati che avrebbero voluto e nemmeno la monarchia, la gente incazzata nera. Le promesse fatte soprattutto di unificazione dei fanti nelle trincee di tutta Italia, ben descritti in libri come Il sardo lusso, Un anno sull'altipiano, ma tanti altri ancora minori, anche se non è socialista, del nostro Repubblicano Spallicci che è pure un interventista molto convinto, sono tutti drammatici, per non parlare del più importante di tutti, che è niente di nuovo sul fronte occidentale, che consacra la fama al giovanissimo scrittore tedesco Erich Maria Remarque, ma dà anche un segno dello scontento che in tutti i paesi europei la guerra imperialista ha portato. Grazie a questa spinta ci sono delle concessioni, fra queste sostanzialmente la possibilità di avere con le elezioni politiche del 1919 una affermazione del proporzionalismo. Non è un proporzionalismo purissimo, però consente di votare il 95% degli elettori maschi. Questo che cosa porta? Le donne purtroppo non avevano ancora avuto diritto al voto e lo avranno purtroppo soltanto grazie alla Repubblica con le elezioni amministrative poco prima del referendum del 2 giugno 1946, nell'autunno del 1940. Il problema è che il Partito Socialista stravince le elezioni. Stravince, stravince come con la similitudine, perdonatemi, è assolutamente pessima, mi vergogno quasi a dirla, perché mi vergogno del movimento che l'ha ricevuto, il consenso dagli italiani in modo così forte, però sostanzialmente prese il Partito Socialista nel 19 il 32,3% dei voti. Andrò adesso più veloce. Il 19 è un anno importante. È un anno importante perché però si creano anche una grande contraddizione. Giacinto Menotto Serrati non è comunista, come invece con banalità si è detto, però fa parte di una corrente che si chiama già comunisti unitari. O quantomeno è vicina alla frazione comunista in cui ci sono già attivi personaggi del calibro di Amedeo Bordiga, di Antonio Gramsci a Torino, con naturalmente tutta la sua rivista teorica e politica che si chiamava Ordine Nuovo e c'è la maggioranza dei giovani socialisti. Perché la maggioranza dei giovani socialisti della FIGS del 1920, tolto una minoranza che per fortuna rimarrà a presidiare la vita del partito e il rapporto col PSI storico è filo comunista. Però il partito ancora non c'è. E adesso voglio fermarvi pochissimi minuti, un minuto, però su una contraddizione che voi dovete affermare quando con banalità viene detto da un lato che la scissione del 21 ha portato automaticamente a fascismo, dall'altro lato che questa però scissione non sia stata motivata da una visione esterna allo stesso dibattito politico italiano. E mi spiegherò meglio. Proprio perché siamo subito dopo il biennio rosso 1919-1920 con l'occupazione delle fabbriche fortemente voluta, che che ne diciamo, sia dalla frazione comunista, dalla corrente comunista nel Partito Socialista Italiano che da quella massimalista, mentre paradossalmente il sindacato è molto più cauto, più cauto, questa occupazione delle fabbriche chiaramente ha provocato una reazione isterica dei conservatori. Però nel Partito Socialista quello che è incredibile è che la maggioranza del partito è massimalista anche quando si verificherà. Sento dei rumori. Pronto? Mi sentite? Sì, la sentiamo. Sento dei casini di rumori. Disattivate tutto il microfono. Disattivate. Allora, il fatto è che paradossalmente quando c'è la scissione a Livorno, del Partito Comunista Italiano, la situazione nel Partito Socialista è la seguente. Comandano i massimalisti, cioè comanda Serrati alla maggioranza. Allora non si capisce perché da un partito socialista in cui comandano i massimalisti che hanno aderito alla terza internazionale, ricordate in questa parola, hanno aderito, fanno in modo di aderire alla terza internazionale, non si capisce perché avendo questa corrente aderito alla terza internazionale, deve essere scavalcata a sinistra da una corrente ancora più a sinistra che vuole la nascita di un nuovo partito che si chiami definitivamente comunista. Voglio essere cinico, ma qui il Partito Socialista andava già nella terza internazionale, solo che non si sarebbe chiamato partito comunista. Quindi cosa vuol dire? Che la scissione è fortemente voluta dalla terza internazionale, cioè dalla concorrenza che il mondo sovietico fa dopo la rivoluzione del 1917, la vittoria delle correnti bolsheviche, non tutta la rivoluzione era bolshevica, e la guida e la esternizzazione delle correnti dei partiti europei per costruire una internazionale di partiti comunisti fratelli gemelli. Serrati, che pure non dimenticate nel 1924, si scriverà pochi due anni prima della sua morte nel 1926, quindi non vecchio, a 56 anni, al Partito Comunista, nel 1921 dice che va bene aderire alla terza internazionale, ma noi non diventiamo comunisti, noi ci chiameremo socialisti, poi ci chiameremo comunisti unitari. Questo particolare ve lo sottolineo perché, visto che quest'altro anno inizierà e fra poco inizia il dibattito, andiamo a vedere con rigore cosa succede. Poi c'è la corrente minoritaria, riformista, Turati fa un discorso drammatico, attenzione, Turati è in minoranza nel Parlamento, nel 21. Turati profetizzerà però una cosa, che coloro che con tanta sicumera sono usciti dal partito, un giorno si troveranno di fronte al dilemma di tornare, se vorranno vedere vincere la causa dei lavoratori, la vittoria dei socialisti. Una profezia che interamente non si è completamente avverata, nel senso che è vero che la diatriba permanente socialisti e comunisti, la lotta per l'egemonia della guida della sinistra, ha fatto sì che per tutto il Novecento, poi in realtà, ci siano stati momenti anche di alleanza feconde, ma la sinistra non sia mai riuscita a essere egemone nella guida del governo. Per responsabilità prevalentemente comuniste, secondo la mia analisi, ma anche per titubanze. Passiamo direttamente all'avvento del fascismo. La marcia su Roma è un casino totale, perché in realtà è il biennio 21-22 che caratterizza con la violenza l'affermazione di un movimento di massa fascista. Alcuni socialistici cadono in pieno, anche alcuni repubblicani, perché il programma di Mussolini originario, quello nel 1919 a Piazza Sansepolcro, era un incredibile coagulo di stanze repubblicane anarchiche. Un guaddo a buio che abbiamo perso. Adesso? Adesso ti sentiamo. Adesso sì. Dicevi repubblicane anarchiche che caratterizzavano il programma rivoluzionario di Piazza Sansepolcro a Milano dei fasci di combattimento, che sono il movimento che precede la nascita poi ufficiale, invece nel 22 del partito nazionale fascista. Voglio dire che alcuni socialisti e i repubblicani si illudono che questa intransigenza populista massimalista di Mussolini venga garantita. Si pentiranno subito, tant'è vero che alcuni già nel 23-24 sarebbero stati disposti ad andare a abbassare Mussolini per le mancate. Ma torniamo a noi al 22. Naturalmente inizia un momento drammatico e qui sì si può davvero dire che le sinistre perdono la testa. Perché dopo il caos che si era creato nella scissione comunista del 21, un anno dopo, con il partito massimalista, il partito massimalista per fare la gara sinistra col partito comunista d'Italia appena nato, non vede l'ora di cacciare l'ala riformista che era rimasta nel partito. E allora, turati nel 22, mentre cominciano davvero le aggressioni, si è costretto, a uscire dal partito socialista e a far nascere il partito socialista che non si chiamerà democratico ancora, ma unitario. Quel partito socialista unitario in cui andranno anche molti dei giovani socialisti, compreso Pertini, che erano rimasti però fedeli al partito socialista politico e andranno anche con personaggi come il segretario politico del partito, che non dimenticate, anche se nascerà e sarà segretario per meno di un anno, no, un anno è rotti, sarà Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti poi verrà ucciso nel giugno del 24, ma come leader del partito socialdemocratico, scusate, del partito socialista riformista. E questa, il partito socialista unitario e il partito socialista affrontano divisi, per non parlare del partito comunista italiani, quindi con tre, vogliamo aggiungerci anche il PSRI, mettiamoci anche il minuscolo partitucolo filo governativo, ecco mettiamoci anche quello che era rimasto in campo, minuscolo, quindi con quattro partiti, tre partiti socialisti e un partito comunista vogliono affrontare divisi il fascismo con la legge maggioritaria. Mi sembra che sia chiaro come va a finire. Il risultato è che naturalmente, durante l'Aventino 1924 naturalmente gli antifascisti scelgono la non lotta armata, di questo lo accusano i comunisti, cioè di non volersi difendere con squadre anche armate e naturalmente frana poi nel 1926 l'Aventino, iniziano le leggi speciali che tolgono di fatto dal 1926 in poi agibilità politica, partiti e sindacati, sindacati ritardano un anno ma cambia poco e nel 1927 si ritrovano tutti a Parigi, nella concentrazione antifascista, di cui non fanno parte i comunisti, però fanno parte repubblicani, socialisti italiani massimalisti, perché il partito socialista italiano che resta è massimalista, il partito socialista unitario turatiano e pertiniano, allora Pertini è un giovane e anche vi ha transitato naturalmente l'amico, gli amici Rosselli, naturalmente Carlo Rosselli e altre formazioni come una sigla, non dimenticatevela mai, che adesso è sputanatissima, è quasi una piccola conclave in clave massonica e basta, ma era importantissima, che era la LIDU, la Lega Italiana a Diritti dell'Uomo, poi anche Lega Internazionale, che era una dei pochi organismi che consentiva il tracciamento fra i vari paesi in quanto ereditata dalla Società delle Nazioni degli anni venti, era un po' come una piccola ONU senza potere che però chi vi aderiva gli consentiva un transito fra i paesi europei con una certa liberalità, non dimenticate che in Germania non c'era ancora il nazismo peraltro. Quindi questo processo nella clandestinità, nell'antifascismo che vede in Parigi fondamentalmente la capitale degli esuli antifascisti italiani, ma gli comunisti a parte, trova un momento di grande importanza con l'incontro di Perpignan fra i giovani Nenni e il giovane Sarga, che sono i leader emergenti, l'uno del partito socialista massimalista del PSI, l'altro del partito socialista unitico. In realtà, perdonatemi, il partito socialista massimalista aveva anche un vero e proprio erede del piccolo partito serratiano, che si chiamava proprio Partito Socialista Massimalistico. Era stato fondato nel 1929 in esilio da Angelika Balabanov e da un socialista cesenate che non dimenticate mai di onorare e che ha una via, scusate, una ancora insegna importante che è il famoso Elmo Simoncini. Elmo Simoncini durante il periodo della clandestinità in Francia col nome di Dino Mariani, sepolto nel cimitero francese di Perlaccio. Elmo Simoncini, Dino Mariani, con una scritta anonima, probabilmente, non probabilmente, della sua amante francese, poi l'avendo lasciata in Italia, una donna con due bambini, che ha scritto una frase che ho visto con i miei occhi, con una certa commozione a Perlaccio, che dice, all'Odinò, «Je ne te l'obblierò jamais», «Non ti dimenticherò mai», «Tua ho detto». E questa è una frase strepitosa, che mette anche un po' leggenda amorosa nell'esperienza degli antifascisti in esilio. 1930 all'unificazione, è un'unificazione operativa, perché in realtà i partiti, come erano, vivevano i partiti socialisti all'interno, una fatica enorme, soprattutto perché i due partiti maggiori nell'attivismo antifascista, durante gli anni che vanno dal 1929 alla Seconda Guerra Mondiale, sono quelli, il Partito Comunista Italiano, non più PCD, ma Partito Comunista Italiano e il Partito d'Azioni, scusate, il Movimento Giustizia e Libertà. Nato appunto dall'intransigenza di Carlo Anello Rosselli e di un gruppo di intellettuali che avevano vissuto le esperienze di crisi dei partiti socialista-riformista, del Partito Liberale, del Partito Repubblicano e, se mi sentite il francesismo, incassati dalle inanità delle guide dei partiti, prevalentemente ormai viventi in esilio, avevano deciso di agire sul territorio italiano e, in qualche modo, costituiranno le uniche due esperienze significative. Gli socialisti non facevano l'opposizione? Certo, facevano, ma erano pochi. Erano nuclei dispersi a Milano, Roma, Bologna, nelle grandi città, Firenze, ma non avevano un corpo operativo come i giellisti e i comunisti. E questo è anche un motivo per cui è paradossale, ma vedremo poi brevissimamente perché, che i socialisti riescano a essere il primo partito quando finisce la Seconda Guerra Mondiale. Perché non dimenticatevi mai che quando è il 1945 i socialisti iscritti al PSIUP, che adesso vedremo come si forma, sono solo 31.000. Ma è il senso comune che adesso vedremo, lo svilupperemo brevissimamente. Durante l'esperienza, quindi, dell'antifascismo, qual è un elemento unificante che mette alla prova la grande forza dell'antifascismo? Beh, ovviamente è l'esperienza della difesa della Repubblica Spagnola. Nella difesa della Repubblica Spagnola si impegnano tutti. Si impegnano tutti perché una parte dei resistenti, naturalmente, oltre a quelli spagnoli, vengono da tutto il mondo. Si organizzano nelle brigate internazionali che sono prevalentemente a ideologia comunista, ma vengono anche delle colonne dall'Italia. Vengono delle colonne dall'Italia, soprattutto è importante alcune colonne che vengono, una guidata da Rosselli, sono formate da azionisti anarchici e socialisti, tra l'altro in una di queste partecipa anche, ovviamente, una donna che poi vedrete diventerà la segretaria personale di Nenni nel dopoguerra, che era Cesenate, non va mai dimenticata perché è una donna molto coraggiosa, una compagna, si chiamava Giaele Franchini, vedova di Mario Angeloni. Mario Angeloni era un repubblicano ufficiale della prima guerra mondiale che faceva parte della colonna Alasio, nella quale insieme a Rosselli e ad altri avevano partecipato alle prime battaglie come quella di Huesca e purtroppo il buon Mario Angeloni perugino era morto. Giaele Franchini rimarrà al fronte insieme a Camillo Berneri che poi nel 1937 verrà ucciso dai comunisti sovietici che perseguitavano sia gli anarchici che i trozchisti del partito operario di unità marxista, detti pumisti e poi nell'immediato dopoguerra andrà con grande umiltà a fare la segretaria nella segretaria di Nenni. La guerra di Spagna è persa, sarà una guerra però molto formativa. Naturalmente durante un periodo dopo un anno di guerra vengono assassinati in maniera brutale, anche se non sono iscritti al Partito Socialista, ma hanno avuto una frequentazione importante giovanile per anni. I Rosselli, soprattutto naturalmente Nello è più filo repubblicano, mentre invece attraverso l'esperienza del 26 del quarto Stato Carlo Rosselli ha militato nel PSU, poi si è stancato ma ha militato per 4 anni nel PSU e questa uccisione consente paradossalmente anche ai socialisti che avevano delegato agli azionisti una parte dell'azione interna di riaprire gli occhi e porsi la domanda di un'operatività in Italia. Tant'è vero che proprio dall'uscita di alcuni quadri del Partito d'azione come Rodolfo Morandi nel 1938 e altri nasce il Centro Interno Socialista. Il Centro Interno Socialista costituirà lo strumento di collegamento prima della rinascita del Partito Socialista in forme organizzate dei socialisti nell'alti. Andiamo avanti, scoppia la seconda guerra mondiale, i socialisti si trovano in una condizione di grande difficoltà, però hanno i loro legami internazionali, partecipano attivamente soprattutto nell'incontro fra quel PSU unificato che adesso si chiama PSI, di nuovo, e un altro movimento. Oltre al centro interno a Milano di Rodolfo Morandi c'è un altro movimento, soprattutto di giovani socialisti che hanno studiato il marxismo, socialisti di sinistra, che hanno fatto nascere il movimento d'unità proletaria, il MUPP, il più intraprendente fra di loro è il giovane Lelio Basso. E da un incontro proprio, in qualche modo, nella ricostituzione alla vigilia del 25 luglio del 43 si ricostituisce un partito che si chiama PSIU, Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, formato dall'insieme del MUPP di Basso, del centro interno di Morandi, del Partito Socialista di Saragat, di Nenni e Pertini. Questo nucleo naturalmente diventa il partito che partecipa anche chi partecipando nella resistenza alle formazioni unitarie a prevalenza comunista Garibaldi, chi è all'interno di esperienze autonome come quelle delle fiamme verdi legate alle guardie di finanza del disciolto Regno d'Italia, chi nelle brigate Matteotti che costituiscono il nerbo più eccellente dei militanti socialisti e non solo, ovviamente, che combattono soprattutto nelle zone di colline e di montagna, comprese non nel nostro territorio romagnolo, dove prevalentemente sono in azioni le formazioni di tradizione comunista, quelle estemporane repubblicane mazziniane delle brigate mazzini e i nuclei molto interessanti delle bande come quella che caratterizza proprio l'asse della provincia di Ravenna nel Faentino che è quella ben famosa della banda Corbari, poi Battaglione Corbari. Queste esperienze dunque hanno a che fare con in qualche modo il movimento resistenziale. L'entusiasmo con cui nasce l'Italia del dopo, dove grazie alla capacità di movimento di leader come Pertini, come Nenni, come anche Saraga, consentono di avere una popolarità enorme. E il popolo italiano, popolo italiano che ha molto da farsi perdonare, ma che aveva votato in massa con il 32,3% nel 1919, il Partito Socialista, concede il 20,7% nelle elezioni politiche del 46. Il primo partito della sinistra è il Partito Socialista, a 1,7% in più del Partito Socialista. Ma questa maggioranza non fa dimenticare che il Partito Socialista, SIUP di unità proletaria, è formato da almeno quattro correnti. Voglio ricordarle alla vigilia del congresso del 46, perché sarà l'ultimo momento in cui poi incomincerà di nuovo quella diaspora socialista che avevamo conosciuto negli anni venti del ventesimo secolo. Una corrente fusionista col Partito Comunista guidata da Oreste Lizadri e Giusto Tolloi. Tolloi era un comandante militare anche di una certa forza, perché era stato un alto ufficiale nella campagna di russi. La componente socialista, riformista, che faceva capo ovviamente a Simoncini e Giacometti altri, era minoritaria. La componente socialista, punto, allora guidata da Nenni, e un'altra componente socialista importante che faceva parte dell'esperienza resistenziale che vedeva anche personaggi come Pertini, diciamo intermedia tra questi, diciamo di centrosinistra. Quindi c'era un'estrema sinistra, un centrosinistra, un centro e una destra. Cosa succede? Che il risultato elettorale gonfia la pancia e i dissensi, soprattutto nei confronti delle scelte di governo, ancora una volta, dell'ala socialdemocratica, inizia la guerra fredda e si compie nel 1947, dopo quel bellissimo risultato, una scissione a destra con a capo purtroppo i compagni che vanno a formare di fronte al rischio di una fusione col partito comunista, di un'alleanza, che però anche in questo caso non aveva vinto la corrente fusionista nel 1947. Ma è bastato ombreggiare l'ipotesi di questa svolta che una parte del partito ha scelto di fare un'altra scissione. Ed è nato nel 1947, in gennaio, con la scissione di Palazzo Barberini, quello che si chiama PSLI, Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, subito brutalizzato dalle sinistre, comprese quella socialista, il Partito dei Piselli che diventerà però due anni dopo il Partito Socialista Democratico. Nel frattempo si accera il processo di guerra fredda, i governi resistenziali cadono uno dopo l'altro e naturalmente con la svolta di De Gasperi alla guida del centrismo senza i socialisti, dopo con le elezioni del 1948 si va allo scontro finale. Lo scontro finale del 18 aprile fa vincere una coalizione di partiti, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano, Partito Social Democratico e Partito Liberale, un po' il quadripartito di vecchio conio contro il fronte popolare democratico che prende uno dei più brutti risultati elettorali ne ha avuti nel XXI secolo di peggio, la sinistra per il XX secolo con il 38,7%. Scoppia però un putiferio nel rapporto tra socialisti e comunisti perché i socialisti che avevano in qualche modo nell'elezione del 1947 le egemonie della sinistra vengono penalizzati nelle liste del fronte democratico popolare e si troveranno di passare da quella percentuale in quel 38,7% complessivi del fronte democratico popolare relegati a un ben più modesto 13,5% dentro il numero di parlamentari eletti. Naturalmente c'è chi polemizza con questa mia interpretazione ma io ho fatto i conti di quanto valevano tutti i candidati socialisti eletti. Formalmente non c'era il simbolo del partito, c'era Garibaldi e il Fidipe, ma guarda a caso sono stati eletti più deputati comunisti che socialisti, anche perché erano stati messi in collegi migliori i comunisti. Da quel momento inizia una lunga marcia all'opposizione perché nel 1948 il partito socialista deve fare i conti con una crisi molto forte. Viene rafforzato un po' dall'arrivo di un altro piccolo partito che ha avuto un dramma perché con il cattivo risultato del 1946 ha assorbito molto dal grande risultato socialista, assorbito molto dal fatto che un elettorato socialista aveva visto in simpatia prima durante la guerra il partito d'azione e giustizia e libertà in precedente, ma non riusciva a capire come si poteva votare un partito d'azione e anche un partito socialista. Aveva preferito Nenni, De Martino, Lombardi, i capi del partito d'azione e soprattutto Ferruccio parli. Il partito d'azione vive in parte le stesse lacerazioni socialiste, una piccola corrente di destra formata da Parri, Sinibaldo e Tino insieme alla Malfa fa una scissione a destra e va nel partito repubblicano, fa prima il movimento democratico repubblicano e poi va nel partito repubblicano, una componente importante, quella più numerosa, va poco prima che si scinda nell'Opsiup nel dicembre del 46, scusate nel generale 47, va nel PSI, non è giapsiup e in quell'occasione entrano dei compagni che faranno un pezzo di storia importante del partito. Ne cito solo due, Francesco De Martino e Riccardo Lombardi, che vengono dal partito d'azione, anche altri, uno leggendario di cui vi racconterò magari in altre occasioni, le gesta, Paolo Battino Vittorelli che fu una clamorosa spia inglese ad Alessandria ed Egitto, essendo nato lì durante il periodo che precede al secondo conflitto mondiale. Il partito socialista va incontro all'insuccesso del 48, inizia il periodo chiuso dell'alleanza dell'unità di classe col partito comunista, il rafforzamento organizzativo del partito, l'abbandono della FGS che a quel punto segue il partito social democratico come FGS, ma il partito socialista con responsabile organizzativo Rodolfo Morandi, una macchina da guerra, crea il MGS, di cui diventerà segretario tra l'altro quel Vincenzo Balsamo che poi sarà il segretario amministrativo morto di infarto durante gli anni di Tangentopoli, il giovane, giovanissimo Vincenzo Balsamo e farà sì che questo partito affronterà una guerra interna molto forte, tra l'ala autonomista che vedeva in Nenni e in parte in Lombardi i sostenitori di una linea autonoma dall'alleanza col PC, a partire dal congresso di Torino del 1953, proseguito nel successo di queste liste più aperte al rapporto anche di governo con eventuali partiti nel 1957 al congresso di Venezia, per sfociare infine alla scelta dell'astensione del primo governo Fanfani, poi Moro nel 1961-62 e alla nascita con una maggioranza riformista alla guida del Partito Socialista e una forte minoranza di sinistra al primo governo di centrosinistra nel 62. Questo determinerà però un contraccolpo all'interno del partito per cui quell'ala morandiana, Morandi era morto nel 1955 per un'occlusione intestinale, poveretto, non aveva potuto seguire le vicende successive, ebbene nel 1963 inizia il movimento di una scissione che ancora a gennaio del 64 fa nascere una costola a sinistra che non condivide l'ingresso nel governo di centrosinistra con la democrazia cristiana e i partiti laici intermedi e questa scissione si chiama PSIUP e quel PSIUP che noi con una battuta abbiamo definito nell'acronomo Partito Socialista partito scomparso in un pomeriggio durerà solo 4 anni, scusate durerà solo 8 anni quando nel 1972 non conseguendo più risultato elettorale con 630 mila voti nessun deputato andrà di lì a poco a un scioglimento, naturalmente riscomponendosi verso il Partito Socialista, verso il Partito Comunista prevalentemente ed anche verso quello che sarebbe poi diventato il Partito Democratico di Unità Proletaria detto PSIUP. Mi fermo qui, la carrellata che ho fatto naturalmente poi tornerà nelle seconde lezioni in altri momenti, mi fermo perché la cronistoria non poteva andare oltre questa già lunga digressione. Grazie mille Pietro per la lezione, adesso possiamo dare spazio magari alle domande? Assolutamente sì, quindi vi invito se avete delle domande o magari dei dichiarimenti a chiedere se ci sono. Mi raccomando fate tutte le osservazioni perché la mia è una cronistoria abbastanza semplificata ovviamente, però nei larghi tratti credo che chi la conosce convenga che è tendenzialmente corretta nella scansione narrativa. Ok, quindi se qualcuno vuole fare una domanda prego fate. Se posso fare una domanda vorrei... Chi sei? Marco Moroni. Una domanda un po' più in stile Paolo Mieli, in stile Tempo e la Storia, ma se uno volesse approfondire diciamo così... No ma fattelo, anche perché è un gioco importante, fatele domande anche cattive. No, 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 ma se uno volesse approfondire questa parte, un libro o qualcosa del genere che si potrebbe prendere in considerazione per poterlo fare? Ah no, come ho concordato con Edoardo, vi devo mandare una lista di dieci libri su questo. Sì, sì, no, no, questo è già nelle norme del contratto. Dieci libri, non uno. Poi scegliete. Poi scegliete. Sì, sì, no, no, una decina di libri sono necessari perché c'è una diversa impostazione. Tenete presente che è molto ben approfondita la nascita del movimento socialista, è ben approfondita fino all'avvento del fascismo. E' più complesso pensare una storiografia socialista nel periodo dell'antifascismo e della resistenza, anche se c'è, e poi c'è un altro buon periodo nella nascita del Partito Socialista all'inizio del governo di centro-sinistra, ma non è ben analizzata la storia, per esempio, del Partito Socialista negli anni 50, per fare un esempio. C'è documenti ufficiali, però non si è mai fatto un lavoro di scavo profondo della complessità anche dei movimenti politici dei partiti di sinistra. Ti sentite? Sì, ti sentiamo Raffaele. Volevo fare una domanda proprio su questo periodo, che va dal dopoguerra, prima dei governi di centro-sinistra. Il Partito Socialista italiano, come si poneva nello scacchiere internazionale? Per chi, ovviamente, era data anche la scessione di Palazzo Barberini, non era proprio filoatlantista, però approfondire un po' questo aspetto, come si collocava, ad esempio, la politica estera? Guarda, come hai detto bene tu, ma ho anche anticipato io, una storia ufficiale della politica estera socialista negli anni che vanno, dal 48 al 63, non è ben definita, però posso dirti, perché studiai a suo tempo i documenti congressuali, che comunque io consiglio sempre che che ne dicano gli storiografi, gli storici militanti, intanto hai da vedere i documenti che votano, poi magari non li applicano, però intanto formalmente sono fatti, sono documenti fattuali, sono documenti banali. Beh, allora, c'è un'evoluzione. Nel 48 il Partito Socialista italiano, che non ha seguito la scissione socialdemocratica, è frontista, è un partito che ancora nel campo, con grande lacerazione, difende la tradizione che ha visto i patti d'unità d'azione fra socialisti e comunisti nella resistenza e anche ha un rapporto col PQS, non di asservimento, perché c'è sempre diffidenza da parte del fatto che i socialisti comunque hanno avuto scissioni, non sono organici, avevano, non dimenticate che c'è ancora Stalin nel 48. E tant'è vero che viene assegnato successivamente nel 53, dopo i fatti di Poznan e Berlino, perché c'erano delle proteste interni al regime, i regime comunisti, i regimi comunisti non sono nati con la bacchetta magica dal 1947, dopo il discorso di Fulton, anticomunista di Churchill, no, ci hanno messo 5 anni a insediarsi i comunisti nei paesi dell'est, per non parlare del fatto che fino al 1955 non c'era l'esercito, praticamente il patto di Varsavia non era entrato in vigore militarmente. Quindi immediatamente fra il 48 e il 53 c'è ancora una notevole identità, nel 53 apre delle fratture, tant'è vero che non dimenticate che Pietro Nenni nel 1955 rifiuterà il premio Stalin, che pure gli veniva conferito, perché già nel 53 c'era l'idea di liberarsi di una presenza del partito comunista così incombente. E infatti, mi sentite? Sì, ci sentiamo. Ci sento un rumore? Ci sento un rumore? Non è il mio. Adesso non si sente. Allora, era chiaro che era il tentativo di costruire un ponte con il discorso internazionale, perché naturalmente la guerra fredda lacera anche l'internazionale. L'internazionale socialista è dalla parte filoatlantica, perché la seconda internazionale nell'evoluzione storica non è mai stata favorevole al comunismo e quindi i socialisti sono deboli. partecipano, ma lo potremo approfondire anche su uno dei libri che vi mando, a un'esperienza che si chiama Isoco e che consente di fare gli osservatori, pur mantenendo i legami con i comunisti, di fare gli osservatori nell'internazionale socialista democratica. E sono l'Isoco. Questo avviene nel 1953. Poi nel 1955 c'è un passo in avanti. La lunga marcia di avvicinamento a posizioni filogovernative atlantiste del Partito Socialista italiano tra il 1948 e il 1955 si compie fino a venire nel congresso di Venezia del 1857, ma è preceduta dalla durissima condanna che i socialisti fanno dei fatti di Budapest. I socialisti rompono coi fatti di Budapest in maniera clamorosa, pesante, dichiarano sostanzialmente che la rivoluzione socialista la stanno facendo i resistenti di Budapest. Non dimentichiamo che vengono uccisi di Imre Nagy e Masarik. Masarik è il presidente socialista, perché nell'Ungheria c'erano due partiti. Un partito comunista e un partito socialista. Il partito socialista era, è vero, un partito operario socialista, poi si chiamerà unificato, ma era un partito con una tradizione più vicina a quella dell'esperienza socialdemocratica. Naturalmente trovandosi nel blocco dell'est viene assorbito e gli viene imposta l'alleanza col CUS. Del resto chi sta di là dalla cortina come facevano a star con i russi. Era scritto a Yalta. Il paradosso è il partito comunista. Il paradosso pur sapendo che nel trattato di pace non era consentito ai comunisti di andare al potere centrale, avevano però agibilità politica, non si sono mai sognati, al di là di enunciarla come ipotesi, di evocare l'ora X per fare veramente la rivoluzione comunista. Perché se l'avessero fatta si sarebbero trovati come i comunisti greci, che quando lo fecero nel 1946, in un anno vennero sterminati e la parola sterminati non è banale perché ne furono uccisi 37 mila dalla repressione alleata inglese e monarchica. Quindi l'approdo a una dimensione europeista avviene a metà degli anni 50 del Partito Socialista, dopo 6-7 anni di grandi sofferenze ideologiche. Se ci sono altre domande... Domandate, domandate... Io, Pietro... Scusate se ho interrotto qualcuno, prego. No, no, volevo ringraziare per la risposta. Perfetto. Io, Pietro, ti volevo chiedere due parole in più su Elmo Simoncini perché lui ce l'abbiamo da sempre... Mi senti? Mi senti? Sì. Elmo Simoncini, noi ce l'abbiamo da sempre appeso in sede a Cesena, non sapendo chi fosse. Io avevo capito, io sapevo che era uno che era morto nella guerra di Spagna... No, non è morto nella guerra di Spagna... No, non è morto... Era il segretario generale... Era il segretario generale... Era il segretario generale... Al fatto che Angelica Balabanov aveva ancora le credenziali per fare in modo che questo partito aderisse alla terza internazionale. Cosa successe tra questo partito socialista che aderiva alla terza internazionale ma non si era sciolto nel partito comunista dal 30 in avanti? E' una storia, una micro storia, poco conosciuta, drammatica, perché questo micropartito durante la guerra di Spagna farà sì che verrà accomunato ai trotschisti. Cioè in realtà il partito socialista massimalista italiano dai comunisti ortodossi filo sovieti, soprattutto quelli russi ovviamente, durante la guerra di Spagna verrà messo nel calderone dei partiti trotschisti, perché in effetti il partito socialista massimalista italiano teorizzava la rivoluzione permanente di tradizione trotschista, ma aveva delle altre sfumature. La cosa interessante è che Elmo Simoncini si trova con un partito minuscolo. Minuscolo. Forse il calcolo lo fece Maurizio Punzo negli anni 70, il partito socialista massimalista italiano aveva in tutta Italia 800-900 iscritti, clandestini, scusate, clandestini e in Francia poco più di 1.500, era un partito da 2.500-3.000 persone in tutto il mondo. Però Simoncini è una figura interessante perché parteciperà dopo, hai ragione tu, la guerra di Spagna, ma se ne andrà in conseguenza della repressione contro i pumisti e gli anarchi nel 1937, ma andrà in Francia dove parteciperà a delle azioni coordinate col maquis francese, la resistenza armata francese e si troverà drammaticamente ammalato di polmonite nel 1944, dove credo in marzo o in aprile morirà. E c'è anche, forse scartabellando nella sede lì che avete in Via Dandini, un piccolo libricino scritto da Gaetano Arfè dedicato alla breve storia di Elmo Simoncini alias Mariani che porta tra l'altro nella copertina del quaderno bianco-rosso la immagine che io vidi a Parigi, a Perlachet, con la dedica con un fiore sulla tomba della sua amante. Lo cerchiamo sicuramente, è un personaggio importante, non lo sapevo, non lo sapevo, grazie. Andiamo avanti. Non rimanete schiacciati dalla storia imponente, drammatica dei socialisti fino alla Seconda Guerra Mondiale. Una bella domanda che non mi fate, la faccio io. Secondo voi quanto conta oggi il peso dell'ideologia nelle scelte personali in politica rispetto a quelle generazioni di cui abbiamo parlato dal 1900 al 1945? Che peso aveva l'ideologia nella scelta di vita delle persone rispetto alla pappa liquida di vivere in una grande liberal-democrazia capitalistica, più o meno sensata? Sicuramente un tempo era molto più importante rispetto ad oggi, dove come dicevi anche all'inizio già i partiti che nascono adesso non si sa come nascono, ma non è che magari manifestino una certa ideologia, comunque sembrano più o meno tutti essere o sulla stessa strada o percorrere una strada simile, ma che alla fine non si sa dove porti. Sì, però il punto che voi dovete, visto che io sono come sa benissimo Enrico, Doardo, Tommaso, un po' da anni un vostro allenatore, grazie alla mia tradizione di dirigente della Federazione Giovanile in età giovanile, ma per dieci anni, non per un giorno, vi voglio sottolineare un punto importante che riguarda il concetto di lotta politica. Allora, il concetto di lotta politica è ambivalente, perché pensare a un'idea di movimento della politica fondato solo sul concetto di lotta politica afferma un principio della forza, della violenza, della virulenza, che non ha più senso in una società democratica avanzata. Però c'è anche l'altra faccia della medaglia. Se noi pensiamo che un programma politico valoriale, con tavole ideali, un rapporto fra storia e futuro, non abbia necessità di una lotta politica, allora non abbiamo capito niente. Perché non penserete che il motore della storia funzioni solo avendo fissato su una bandiera, sui colori di una bandiera o sulla tavola di uno statuto di partito o in alcuni pregevoli documenti e libri il suo futuro. L'esempio della crisi del PSI nel 1994 non è testimonianza. Non poteva sparire un partito importante come il Partito Socialista, 102 anni dopo la sua fondazione. Ne ci avrebbe creduto nessuno. Invece è successo. Perché noi stiamo parlando della storia dei PSI, parleremo della storia dei PSI e lasceremo la diaspora alla fine. Però dobbiamo anche capire che quando si costruisce una forza politica è anche il cemento valoriale, relazionale, ideale, culturale, politico, l'amalgama che si produce, che forma il nucleo di vita di un partito politico o di una federazione giovanissima. Non è un processo che è formato da degli automatismi, dei determinismi che creano poi le condizioni. Oddio come siamo bravi, che belli. Tutt'altro. Oggi in una società liquida formare un nucleo aggregante di una forza politica è più difficile. Infatti già la parola partito crea terrore. E infatti tutti si chiamano movimento. Perché il movimento è più liquido. È più aereo. Voglio essere volgare. Se tanto non vado al congresso, sbatte cazzo. Ma una volta non era così. Perché siccome venivano da una formazione romantica ottocentesca del risorgimento, l'adesione ideologica e idealistica ai partiti era un tratto specifico della propria identità. E' chiaro che se quella identità diventa, seguendo le regole del politico secondo Karl Schmitt, imico inimico o imicus osti, cioè nemico irriducibile, chi non la pensa come te, nemico mortale se non la pensa come te, andiamo nella guerra ideologica e nascono i nazismi e i fascini. Ma è altrettanto vero che se tu l'adesione alla politica la vivi con la leggerezza di un'aranciata, non fai politica perché non esprimi la tensione ideale, materiale, morale per fare la lotta politica. Poiché una delle condizioni sine qua non per fare politica è essere capaci di fare lotta. E gli strumenti sono le forme organizzative e l'appropriazione di contenuti valoriali, ideali, programmatici che nascono dall'incontro di più persone con i medesimi scopi che affinano nei partiti e nelle federazioni giovani. O anche nella sindacato e nella cooperazione su settori più specifici. Secondo te come si potrebbe rimediare a questa moffalla un po' ormai diventata più o meno culturale? Ormai fra noi giovani c'è la cultura del menefreghismo, l'abbandonamento a una corrente? Guarda, io ho sempre detto a Enrico che mi sembra che sia un punto di riferimento importante per tutti voi perché ha un incarico importante, difficile, con pochi mezzi, però io credo che voi abbiate un compito importante, cioè alla fine voi avete un duplice compito. Un compito è aggiornare i valori, cioè voi il lavoro anche che avete fatto sulle tesi è interessante, tesi nazionali, studiatele sempre, abbiatele sempre come punto di riferimento perché avete individuato alcuni punti originali. Si tratta di promuoverli meglio, di fare delle campagne di carattere comunicativo, emozionale, di marketing emozionale in piccoli e grandi gruppi, ma già la scelta di creare i circoli è una buona idea, come luoghi di dibattito. Poi bisogna affederarli, ma il punto vero riguarda invece il problema della strumentazione. Io credo che un partito politico moderno oggi non possa più avere le caratteristiche del Novecento. Il partito politico moderno deve aprire un dibattito sul concetto di area. Il partito politico più importante, che però non può essere riprodotto in quella forma, è per esempio il partito socialista svedese, che è un centro che ha radialmente 20 associazioni e di riferimento. Loro sono maniacali, perché vengono dalla tradizione socialdemocratica tedesca, per cui ci sono anche, non mettetevi a ridere, le estetiste e i barbieri socialisti. Voglio dire, hanno fatto delle leghe di mestiere su ogni pezzo della società svedese. Così non possiamo pensare, nella società moderna, di interpretare le forze politiche. Però possiamo fare una mediazione, perché per esempio un partito d'area che non può condensarsi negli iscritti online di una piattaforma tecnologica di proprietà privata, che fa scappare da ridere, governare una società complessa con la piattaforma privata, fa schifo, detto fra noi. Ma non possiamo però neanche pensare che solo il nucleo duro, puro, dei militanti, di un gruppo di partiti sempre più ristretti, governi una società complessa del XXI secolo. Allora il compromesso qual è? Quello che noi sognavamo negli anni Ottanta. Il partito d'area, un partito dove c'è un livello di voto degli elettori, c'è un livello di voto degli iscritti e c'è un livello di scelta e di azione dei militanti. Con questa tripartizione di ruoli si dà la possibilità di ampliare la platea di riferimento e dare anche la possibilità di forme di iscrizione più lente e di adesioni più temporanee, di forme intermedie di adesione e di forme invece vincolanti, addirittura più di adesso. Con un partito di area si hanno attorno una galassia di movimenti, circoli, elementi, che fanno anche rete quando è necessario, come in misura molto piccola avete fatto voi con i radicali italiani, ma è una rete troppo piccola. Uno dei motivi per il fallimento dell'Ulivo è che l'Ulivo è rimasto incerto nel definire se diventare federazione dell'Ulivo, dove allora non dimenticate potenzialmente c'erano anche i socialisti repubblicani, l'MRE di Luciana Sbarbati e i socialisti democratici italiani di Enrico Boselli, che non dimenticate nello sforzo massimo dell'Unione, però durò pochissimo, prese alle elezioni politiche del 2006, il 49 e o contro il 49 e 6 del Polo della Libertà, quindi la società italiana perfettamente spaccata in due. Quindi si può tentare di costruire poi a livello politico generale una federazione, ma il partito dare è un partito in cui intorno al partito c'è anche una scelta del gruppo dirigente, dove una parte del gruppo dirigente nazionale fanno parte del consiglio nazionale del partito, partecipano alla guida del gruppo dirigente, non solo della federazione giovanile, di tutti gli ambiti in cui un partito socialista oggi è presente. pensate alla UIL, pensate alla CGL, alla CISL, pensate all'Associazione dei consumatori, pensate a tutti i buchi in cui dov'essereci un socialista che fa una politica non prettamente di partito, ma che ha dei riferimenti istituzionali, sociali, economici, culturali. ecco, i partiti d'area secondo me sono la risposta fra la società liquida delle piattaforme tecnologiche e i vecchi partiti socialisti, socialdemocratici, laboristi, comunisti del Novecento. Grazie Pietro, se non ci sono altri interventi direi che potremmo concludere. Allora, innanzitutto ringraziamo Pietro per la lezione, è stato molto interessante, comunque sia noi ci ritroviamo con la prossima lezione che sarà il prossimo primo dicembre, se tutto va bene, e dovremmo parlare della resistenza, dalla resistenza al primo centrosinistra che comunque ne abbiamo trattato anche oggi, quindi non so... Molto, molto velocemente, sì. Lo faremo in modo molto più approfondito. Ok, quindi ci vediamo il primo dicembre per parlare appunto della resistenza fino al primo centrosinistra. Vi ringrazio per aver partecipato e per ogni questione potete contattarmi su Facebook oppure su Instagram, comunque per chi invece ha... E poi domani ti mando un elenco a disposizione di tutti, di testi che possono essere in qualche modo base bibliografica di una lezione come questa. Esattamente, così io lo invierò sui nostri gruppi Whatsapp e per chi invece è entrato qui dentro da Facebook o da Instagram metterò anche l'elenco qui su Discord nella chat ufficiale o nelle notizie ufficiali così lo può trovare facilmente. Allora, vi ringrazio ancora e... Mi sembra, mi sembra, io ringrazio tutti, ringrazio tutti, te Edoardo, Tommaso, Enrico, ma naturalmente tutte le ragazze e i ragazzi che ci hanno seguito. Bene, grazie mille.